Nelle prossime 4 partite abbiamo bisogno di concentrarsi e di concentrarsi e di venire con la stessa energia e ancora più energia e vincere i partiti. Da Sassari al sabato sera la vitrifogarena con Pistoia, l'allenatore biancorosso ha analizzato ieri sera il momento cruciale della pallacanestro pesarese nel salotto di Insieme a Canestro di Rossini TV. A Sassari, anche a Sassari potevamo anche al limite voglio dire non facciamo canestro possiamo perdere però voglio dire era una squadra viva, una squadra viva e un posto come Pesaro non può pensare che le cose sono andate e bisogna mollare perché non è una cosa sportiva, quando uno fa sport non muole anche se per caso fosse già stata condannata con due sconfitte non si può avere questa cosa qua. Uno deve giocare seriamente con serietà per se stesso prima e poi per la squadra e per l'ambiente. Perciò quello l'abbiamo fatto, ci è arrivata la vittoria, adesso giochiamo questa partita, non sarà per niente facile però ci deve essere proprio... Quello spirito. Dobbiamo uscire fuori in cui non possiamo dire niente, possiamo anche perdere, ok? Possiamo perdere però diciamo perdi perché gli altri sono stati più bravi. Questa è una cosa che bisogna accettare e tutto però le partite che abbiamo perse noi sono state veramente dei macigni. Domani sabato 13 aprile con Pistoia, rivelazione del torneo, Sacchetti taglierà alla Vitrifrigo Arena il traguardo della panchina numero 400 in Serie A. Ti è mai venuto a pensiero chi me l'ha fatto fare? Sì, sicuramente mi è venuto davanti a questo però sono stati bravi loro e poi quando ho iniziato a vedere qualcosa poi ho avuto questa delusione perché avevo visto che le cose sembrava che andassero in un certo modo, poi quando c'è stato quel rebound lì ho avuto veramente la paura perché ho detto sai arriviamo da due partite importanti, vinte e tutto, poi l'atteggiamento dopo è stato veramente pessimo e allora diceva non riesco proprio ad entrare nelle loro teste e adesso le ultime due partite voglio dire le abbiamo giocate perché si può perdere a palacanestro però capisco quando i miei giocatori diano quello che danno. Questo l'hai sempre detto, io ho giocato e so se danno tutto. E dico oggi adesso abbiamo fatto due allenamenti che uno dice sai di solito arrivi vinci però ho notato che anche oggi in allenamento, ieri uguale, che c'era una cosa che venti giorni fa non c'era perciò lo dico piano perché poi non voglio rimanere ancora deluso però ho visto qualcosa che prima non avevo visto. Mente e corpo proiettata sulla squadra senza calcoli salvezza. No, la volata nostra non è la volata sugli altri, noi dobbiamo fare la volata su di noi, noi dobbiamo pensare che la prossima partita è la più importante della stagione davanti a questo e perciò bisogna giocare veramente al massimo senza paura, da sfrontati come abbiamo fatto, siamo riusciti a farla fuori casa, la dobbiamo fare qua. Ma è finito, poi è finito penseremo alla prossima partita e noi non dobbiamo guardare gli altri, noi adesso dobbiamo guardare noi stessi e fare il massimo di noi stessi. Poi se siamo arrivati alla fine il merito è nostro, non è il demerito nostro, noi dobbiamo pensare a noi. Quattro partite al termine in cui ci sarà anche l'Udon Love, ultima carta da giocare in questa lotta salvezza. Sicuramente avrà bisogno di avere ancora qualche allenamento e poi alla fine di tutto è la partita che ti darà l'esatta situazione di questo. È logico che io in questo momento ho questo gruppo di giocatori che hanno questo loro dinamismo, devo andare con questi giocatori qui, è logico che se mi troverò in difficoltà con qualcuno, lui è un giocatore, però il problema è che lui deve capire che viene dentro in un gruppo che per ora ci ha dato delle risposte e ci attendiamo delle risposte.